E' già partito? Ecco Antonello, fondatore, dicevo, del settore vuoto in acqua libera del 1986. Da sempre desterato con la Lazio Vuoto, ha sempre degnamente rappresentato il vuoto di fondo. E se siamo arrivati ai vertici mondiali del settore vuoto, lo dobbiamo anche alla continuità di atleti come Antonello. Signores, Antonello Asmone, Lazio Vuoto. Un applauso.